Vi auguro una buona giornata e buono weekend. Il messaggio di oggi è giustizia. La tua carriera rende giustizia e protegge tutti quelli che hanno bisogno del tuo aiuto. Questa carta significa che lo scopo della tua vita consiste nel proteggere gli altri dalle ingiustizie. Ti sentiresti appagato in professioni inerenti alla mediazione legale, alla legge, alle scienze politiche, all'urbanistica, alla sicurezza e così via. Potresti addirittura unire gli aspetti spirituali a queste attività e svolgere un lavoro terapeutico insieme alla risoluzione dei conflitti. Possiedi una leadership innata e gli altri ti considerano una guida a un punto di riferimento. Onori e rispetti la responsabilità che ti assumi e in cambio sei a tua volta rispettato. Gli angeli ti chiedono di continuare ad avere fiducia e a seguire il tuo cuore mentre la tua carriera cambia e si evolve. Il cielo sa dove sei più richiesto e ti affiderà incarichi di vini dove sfruttare al meglio le tue capacità. Questo è il messaggio per augurarvi la buona giornata.